Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video da Marco Azzurro come sempre sul canale Iscrivetevi, iscrivetevi al canale perché dobbiamo aggiungere numeri importanti di iscritti Come vi sto già dicendo ormai da diversi video E oggi parliamo di questo Napoli-Ascoli amichevole in quel di Castel di Sangro Che ha visto la nostra squadra, il Napoli contro la compagine Di sottile, i bianconeri di sottile Allora, io avrei più da dire sull'Ascoli che sul Napoli sinceramente Perché ho visto due o tre giocatori dell'Ascoli, in particolare il terzino sinistro Che è qualcosa di spettacolare e anche, mi è piaciuto molto, Dionisi E c'era un altro giocatore che non mi ricordo neanche come si chiama Ma è un extra reglino che mi piaceva, mi è piaciuto Quindi veramente ho più da dire sull'Ascoli che sul Napoli paradossalmente No, sul Napoli però c'è da dire che comunque in un primo tempo in cui abbiamo preso un palo Se è passato in vantaggio tramite un regolino di insigne Crei tanto, non riesci neanche a concretizzarlo Vabbè, è sempre un amichevole Però qui comunque il campionato ragazzi Tra tre settimane, anche meno Anche meno di tre settimane il campionato inizia Quindi, Napoli Cerchiamo di essere un poco più concreti Ho visto un Fabio Ruiz in una forma non proprio smagliante, sinceramente Vale lo stesso per Meret Però poi, grosso modo, il Napoli è la partita comunque da porta a casa Quando entrano Masciash, Elmas, Malcui Tutti questi giocatori che si devono rilanciare E che hanno fatto tutto il ritiro con il Napoli E si vedono poi le differenze tra i giocatori che si sono allenati Da inizio estate fino ad oggi E quelli che sono arrivati d'altro ieri E hanno fatto sì e no due o tre sedute di allenamento Quindi sicuramente questo è un vantaggio Per tutti questi giocatori qua Mario Ruiz sempre più schifoso Non ha zecca, un cross neanche morto Io penso che De Laurenti si debba muovere A prendere questo benedetto terzino Ancora oggi un'ottima prova da parte di Caetano Da parte di Masciash C'è il gol di Elmas che è davvero un bel gol Con un grande inserimento Elmas secondo me è uno di quelli che ha voglia di fare Poi bisogna vedere in campionato cosa combinerà Ma ha voglia di fare Oggi Rosyman è veramente molto sottotono Anche se ha avuto due o tre spunti Ma per il resto è stato un Napoli Che oggi ha fatto il compitino E' stato bello più che altro rivedere Insigne Di Torenzo, Meret I giocatori che hanno vinto l'Europeo E anche lo stesso Fabio Arruz Che comunque è un titolare Noi ci vediamo alla prossima ragazzi Sempre comunque Forza Napoli Iscrivetevi a questo canale Non perdete tempo Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Sempre Forza Napoli Noi ci vediamo al prossimo video